È una battaglia che non si deve mollare, perché io ho seguito la questione del Deferogato quando ero assessore urbanistica, è stato uno insieme, diciamo, la questione della Fibronit alla questione della tutela delle lame e delle coste, insomma è stata una delle battaglie più forti che ha fatto la Giunta Emiliano. È chiaro che il governo nazionale, così come RFI inizialmente non ha mai amato la modifica del percorso, diciamo, del tratto ferroviario che taglia come un bistoli la città di Bari dal mare. È un taglio di bistoli che fu fatto negli anni, diciamo, degli anni 50. È chiaro che sono d'accordo con il nostro amico che ha telefonato che non bisogna abbassare la guardia. L'articolo sulla Gazzetta di oggi io lo guardo sempre, come dicevamo prima, tra il titolo dell'articolo e i contenuti. Sicuramente c'è da parte del governo centrale una volontà di voler recuperare un po' di soldi, soprattutto poi se si tolgono a mezzogiorno meglio e se poi si tolgono alla Puglia meglio ancora, perché qui c'è questa cosa che dobbiamo dire, possono essere presi e spostati per interessi di altre logiche politiche in strutture che vanno più verso l'Europa e meno verso l'Africa e quindi chiaramente è una battaglia da fare. Io sono convinto che l'assessore Minervini, che è quello a cui è dato la delega regionale, che prima era dell'assessore Loizzo credo a livello regionale, farà di tutto per non perdere questa battaglia, come non la farà Nichi Vendola e come non la farà il nostro sindaco Michele Emiliano. Io per quanto riguarda questo aspetto credo che bisogna riprendere l'iniziativa politica anche dei cittadini, questa iniziativa di Iapigia è stata importante, di cui avevo conoscenza, però ero fuori a Roma, non ho potuto partecipare, ma so che ci sono stati presenti, ci sono dei finanziamenti che sono stati già vincolati a livello nazionale, ci sono dei ritardi legati a questa rivisitazione della finanziaria di Tremonti e quindi anche nelle opere pubbliche c'è un rallentamento, ma non credo che la cosa si potrà fermare perché c'è anche un interesse da parte di RFI di liberare quelle aree di binari perché c'è un interesse urbanistico, c'è un interesse di territorio, c'è un business anche economico finanziario da mettere in funzione. Ma se insieme al business c'è anche il business dell'interesse pubblico, ripetiamo l'apporto pubblico privato sarà funzionale, indubbiamente è un momento delicato, però io sono convinto che fino alla fine anche su questa battaglia la Puglia e la città di Bari, la porterà fino in fondo, però abbiamo bisogno di un governo, non lo dico come è strumentale, ma di un governo che ragioni nei termini di uno sviluppo anche della mobilità su ferro funzionale, perché è chiaro che se io adesso posso fare Bari-Roma in tre ore e mezzo in treno e posso rendere più agibile la viabilità sul treno, riducendo anche i costi della percorrenza, quindi migliorando anche le componenti trasportistiche insieme al porto, a tutto quello che rappresenta la Puglia è una risorsa importante del mezzogiorno, a qualcuno non piace che questa Puglia e questa città continui a crescere, noi dobbiamo fare attenzione come baresi e come pugliesi a capire che in certi momenti iniziative come quelle di Apigio che sono lodevolissime, devono riprendersi perché l'aiuto della popolazione, l'aiuto anche dell'opinione pubblica su certe questioni importanti sono fondamentali affinché anche la politica si muova un po' più rapidamente. Assolutamente sì, ad ogni modo l'ho annunciato proprio ieri l'assessore regionale dei trasporti Guglielmo Minervini, nei prossimi giorni saranno a Roma per firmare linee generale quadro che prevedono anche un'intensificazione della politica degli aeroporti pugliesi con 90 milioni di euro, quindi in quell'occasione sicuramente si parlerà anche di questo, ovviamente vi daremo conto nei nostri appuntamenti con l'informazione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senti, volevo segnalare all'assessore Batticchio per tutti questi bei progetti che ci sono per migliorare la qualità di vita della città di Bari, insomma ben vengono, soprattutto per le classi e le categorie più svantaggiati. Io sono il genitore di un ragazzo diversamente abile che probabilmente l'assessore conosce per aver partecipato ai vari convegni dell'IPD, l'associazione persone down di Bari, tra cui a suo tempo fu revocato il permesso, il pass per disabili per Francesco, per ovvi motivi di ambulazione che lui aveva e questo fu detto anche dalla commissione medica. Su mio ricorso non c'è stato nessun riscontro, né dalla polizia urbana che mi ha defilato a consegnare il permesso, cosa che ho fatto, ahimè, con tante polemiche cose. Però la polizia urbana, su raccomandata, non risponde a queste mie giustificazioni. L'altro non risponde, la commissione medica non risponde. Siccome il ragazzo, diciamo, sì è vero, deambula, però non deambula psicologicamente, mentalmente, quali sono le prospettive di questo? Perché, le spiego, il permesso serve anche e soprattutto per problemi di soccorso, per portarlo al policlinico, per le visite. Il ragazzo non usufruisce né del taxi, né del trasporto, di tutti i trasporti messi a disposizione dal bravo sindaco, molto attento su questo. E volevo capire perché non risponde nessuno di queste istituzioni, su quattro raccomandati, tra cui anche una lei, assessore, perché non mi risponde?